Con questa lezione cominciamo la lettura e l'analisi e il commento di alcune delle più importanti e famose lettere tratte appunto dalle ultime lettere di Iaco Portis. Cominciamo proprio dalla prima, questo è l'incipit, il sacrificio della patria nostra è consumato. Si tratta appunto della prima lettera che porta a due indicazioni importanti, è stata scritta dai Colli Euganei ed è datata l'11 ottobre del 1797. Ortis si trova sui Colli Euganei, quindi poco distante da Venezia, su quelle montagne che circondano Padova, quindi si trova in una situazione di esilio. L'11 ottobre del 1797 indica appunto il momento in cui Jacopo ha scritto la lettera con la quale comincia questo romanzo e per quanto sia una lettera che anticipa di almeno sei giorni il trattato di Campoformio che appunto verrà firmato il 17 ottobre del 1797, di fatto ormai era chiaro a tutti che Napoleone aveva ceduto Venezia all'Austria. E quindi la situazione per Ortis, come per tutti quei patrioti che avevano sperato, se non in un Napoleone liberatore, almeno in un Napoleone che aiutasse italiani a liberarsi dallo straniero, ecco tutti questi patrioti naturalmente si trovano in una situazione difficile. Devono scappare da Venezia e devono quindi rifugiarsi in luoghi sicuramente più sicuri. Il sacrificio della patria nostra è consumato, tutto è perduto e la vita, seppure ne verrà concessa, non ci resterà che per piangere le nostre sciagure e la nostra infamia. E questo è proprio il primo periodo della prima lettera con il quale comincia questo romanzo. Il tono è già importante e solenne, il sacrificio della patria nostra è consumato. Il primo termine su cui dobbiamo appuntare l'attenzione è proprio questa parola, cioè sacrificio, che ovviamente rimanda a un ambito sacrale, religioso, perché qui chiaramente si sta immolando sull'altare della ragione di Stato la patria, la patria di Ortis e quindi fumano insieme con la patria anche quegli ideali di libertà che erano stati così propagandati dai francesi e a cui non solo Ortis aveva creduto. Tant'è vero che il tono diventa ancora più forte con l'espressione tutto è perduto. C'è un chiaro, evidente riferimento al Vangelo di San Giovanni e quindi tutto è finito, tutto è perduto, tutto è concluso. Siamo appunto anche in quel caso in un momento davvero drammatico della storia di Gesù e quindi lo scrittore vuole mettere in evidenza questo momento fondamentale che è anche poi l'inizio di questo romanzo. Poi Ortis scrive «E la vita, seppure ne verrà concessa, non ci resterà che per piangere le nostre sciagure e la nostra infame». Come vedete in questo secondo passaggio, Ortis ci dice già subito, ci accenna già subito che cosa sarà la sua vita e c'è già il dubbio se questa vita potrà continuare e la vita seppure ne verrà concessa. Quindi già si comincia a insinuare quell'idea di morte che poi di qui a pochissime righe verrà in qualche modo svelata. E comunque dice Ortis se anche si rimarrà in vita sarà una vita appunto in cui andremo a piangere sulle nostre sciagure e sulla nostra infamia. Ortis va a connotarsi come una vittima e questo discorso appunto che Foscolo sta facendo per cercare di trasformare l'Ortis in una vittima è un discorso particolarmente importante e particolarmente significativo perché ci troviamo di fronte a un romanzo epistolare dove appunto siamo nella presenza di un io che racconta la propria vicenda in prima persona e attraverso uno strumento appunto l'epistola, la lettera che appartiene alle cosiddette scritture dell'intimità insieme col diario, anzi è il secondo livello proprio della scrittura dell'intimità perché il diario è per se stessi la lettera è per persone amiche, persone insomma molto vicine da un punto di vista proprio dell'animo, del cuore a chi sta scrivendo e in questo modo quindi Ortis si pone come vittima vedremo tra poco della storia e nello stesso tempo attrae su di sé l'attenzione del lettore, in questo modo si viene a creare un'empatia fortissima tra appunto chi scrive e chi legge, chi legge immediatamente corre in soccorso di chi scrive perché vede che è in difficoltà, che sta soffrendo e quindi questo diciamo binomio scrittore e lettore diventa strettissimo e soprattutto la cosa che già si intravede qui e che poi ovviamente diventerà più evidente nei prossimi periodi è questo messaggio che implicitamente Foscolo dà al lettore, cioè attento lettore che qui parleremo di una serie di una serie di eventi importanti, ma ancora più importante è lo sviluppo interiore della vicenda per cui sono le ripercussioni all'interno dell'animo di Ortis di quelle che saranno appunto le vicende esterne vuoi la figura di Napoleone oppure l'incontro con Teresa, quindi come se Foscolo desse già la direzione al nostro lettore dicendogli guarda l'aspetto fondamentale, quello a cui devi veramente stare attento e l'interiorità di Ortis il mio nome è nel liste di proscrizione, lo so, ma vuoi tu ch'io per salvarmi da chi mo prime mi commetta a chi mi ha tradito? Naturalmente essendo un patriota, avendo collaborato con il governo francese in quel brevissimo periodo in cui appunto i francesi hanno occupato Venezia, il nome di Ortis è nelle liste di proscrizioni e quindi per lui non c'è più possibilità di rimanere a Venezia, deve andare via e a questo punto Ortis si trova un bivio insomma, naturalmente esclusa la possibilità di farsi prendere dagli austriaci ma è ovviamente fortemente compromessa la possibilità di affidarsi a Napoleone, cioè a chi lo ha tradito. Nella seconda parte c'è il riferimento alla madre L'Ortis che si sta rivolgendo a Lorenzo Alderani, il cui nome comparirà tra poco raccomanda a Lorenzo la madre, consola mia madre Ecco, l'altro tema importantissimo che abbiamo visto già in una precedente video lezione essere un tema caro a Foscolo e soprattutto un tema caro quando il concetto appunto di madre si unisce a quello di terra, di patria e quindi di Venezia Consola mia madre, vinto dalle sue lacrime le ho obbedito e ho lasciato Venezia per evitare le prime persecuzioni e le più feroci Quindi qui è evidente come appunto lasciare Venezia vuol dire anche lasciare la madre quindi c'è questa simbiosi tra madre e Venezia Or dovrò io abbandonare anche questa mia solitudine antica dove senza perdere dagli occhi il mio sciagurato paese posso ancora sperare qualche giorno di pace Ecco, si trova appunto, abbiamo detto all'inizio, sui Colle Euganei non è Venezia ma è pur sempre vicino a Venezia e quindi si pone questa domanda dovrò io anche abbandonare questa mia abitudine antica probabilmente quella di ovviamente prendere conforto in queste zone circostanti Venezia, cioè zone appunto di Padova nella quale probabilmente Ortis si recava per confondersi con la natura per trovare appunto qualche giorno di pace C'è ancora riferimento al paese nominato come sciagurato ma anche mio cioè un attaccamento ovviamente a Venezia molto molto forte e c'è come abbiamo detto la necessità di contrapporre a un male presente quindi un dolore profondissimo cioè l'esilio e l'abbandono appunto di Venezia a questo male c'è la necessità di opporre una sorta di illusione cioè la possibilità di sperare di passare qualche giorno di pace cioè casomai appunto a contatto con la natura e anche qui il paesaggio come stato d'animo diventa ovviamente un altro tema qua semplicemente accennato ma poi analizzato con profondità in lettere scritte successivamente tu mi fai raccapricciare Lorenzo quanti sono dunque gli sventurati e noi purtroppo noi stessi italiani ci laviamo le mani nel sangue degli italiani ecco il riferimento al destinatario delle lettere appunto Lorenzo Alderani rivolgendosi a Lorenzo Ortis si chiede quanti sono quelli che come me hanno creduto in Napoleone e come me hanno creduto negli ideali della patria appunto definiti più in generale gli sventurati e la seconda parte di questa affermazione è per certi aspetti ancora più forte della prima e noi purtroppo noi stessi italiani ci laviamo le mani nel sangue degli italiani beh effettivamente qui il romanzo diventa una tragedia l'immagine è un'immagine di sicura derivazione biblica immaginiamo appunto il lavarsi le mani di Ponzio Pilato ma qui l'immagine appunto prende una tragicità una drammaticità veramente molto molto forte qui si tratta appunto di gli italiani stessi che si lavano le mani nel sangue degli altri italiani quindi di questa guerra civile che rischia di scoppiare e quindi vediamo come l'elemento biblico l'elemento quindi ancora che sacro diventa un elemento legato a un altro concetto a un altro tema molto caro a Foscolo e cioè il tema e l'ideale della patria ancorché sacro per lui per me segua che può poiché ho disperato e della mia patria e di me aspetto tranquillamente la prigione e la morte ci avviamo verso la conclusione di questa prima lettera e qui l'autore ci indica quello che poi sarà la conclusione del romanzo stesso di fatto avendo disperato tanto di poter salvare la mia patria quanto di me Orti si aspetta tranquillamente sì la prigione ma anche la morte quindi di fatto si prepara ad accogliere e ad abbracciare la morte nella prima lettera già l'autore indica quale sarà poi la conclusione del romanzo e questo naturalmente per far passare un messaggio importante cioè per dire quello che avevamo detto qualche slide precedente non è importante come va a finire questo romanzo quale quindi sarà la conclusione di questa storia quello che è importante e Foscolo lo dice appunto al lettore è l'evoluzione interiore di questo malessere è l'approfondimento all'interno dello stesso Foscolo di alcuni degli aspetti più importanti della vita infatti nelle ultime lettere di Jacopo Ortis si parte da una delusione politica molto forte per passare una riflessione sulla storia sulla letteratura ma anche sulla forza dell'amore e quindi la conclusione la morte è soltanto il punto finale non tanto di un peregrinare furioso soprattutto nella seconda parte del romanzo di Ortis quanto appunto la conclusione di questo itinerario interiore le cui tappe appunto sono segnate da profondissime riflessioni su temi molto molto cari a Foscolo il mio cadavere almeno non cadrà fra le braccia straniere il mio nome sarà sommessamente compianto da pochi uomini compagni delle nostre miserie e le mie ossa poseranno sulla terra dei miei padri ed ecco che il periodo finale si caratterizza per questa presenza ossessiva dell'aggettivo possessivo il mio cadavere, il mio nome, le mie ossa questi tre momenti vanno a mettere in evidenza altrettanti temi importanti che poi saranno sviluppati in altre opere da Ugo Foscolo il mio cadavere almeno non cadrà fra le braccia straniere ecco, quindi il bisogno che Ortis ha e che è anche quello di Foscolo di avere una patria a cui rapportarsi e cioè Venezia Foscolo è nato a Zacinto ma di fatto per vicende che conosciamo nella sua vita, nella sua biografia Foscolo lo troviamo di fatto adolescente a scegliersi come sua patria Venezia e quindi l'auspicio di Ortis è proprio quello che una volta morto e ancora una volta quindi quella parola morte che è un po' il motivo conduttore di tantissime lettere e che poi di fatto rimanda a quello che sarà la conclusione di questo romanzo ecco, il tema della morte che appunto si concretizza proprio in questa immagine molto forte del cadavere che però possa trovare almeno accoglienza tra le braccia straniere qua il tema della patria e di Venezia diventa un tema consolatorio di fronte all'evento terribile della morte l'autore e soprattutto Ortis si aspetta che così come Venezia lo ha accolto quando era adolescente quindi gli ha dato quell'accoglienza calda lo ha fatto sentire importante allo stesso modo insomma lo accoglierà quando ormai Ortis sarà soltanto un cadavere e quindi di fatto potrà riposare probabilmente forse in pace ma nella sua patria il mio nome sarà sommessamente compianto da pochi uomini compagni delle nostre miserie e questo secondo momento rimanda a un tema carissimo a Foscolo che sarà ripreso nel Carme dei Sepolcri cioè il tema del compianto del piangere insieme con e soprattutto il tema il compianto ci rimanda al tema del ricordo perché se la morte è il disfascimento del corpo e quindi di fatto è la conclusione della vita di un Foscolo e probabilmente anche di un Ortis agnostici o comunque materialisti quello che è importante è il ricordo che il nome quindi le azioni legate a questo nome quindi a questa persona possono appunto far sì che alcuni uomini possano mantenere vivo come ho detto questo ricordo quindi il tema del compianto si unisce all'altro tema importantissimo del ricordo naturalmente poi diventerà il ricordo di azioni valorose importanti di erigia affetti ma ovviamente di questo parleremo in un'altra video lezione quello che è importante è questo bisogno da parte di Ortis di sentirsi accolto appunto prima erano l'accoglienza della patria ora appunto l'accoglienza dei compagni di sventura e le mie ossa poseranno sulla terra dei miei padri in questo ultimo momento di questa tragedia che è personale ma che rimanda evidentemente una tragedia anche collettiva tornano le immagini forti le ossa richiamano evidentemente il cadavere e evidentemente insomma il concetto di terra dei miei padri richiama questo bisogno di avere una sepoltura in patria e cioè non trabraccia straniere e quindi Grazie a tutti.